Ragazzi, oggi andremo a fare un multi unboxing. Mi sono arrivati tre pacchi in questi giorni, non ho avuto il tempo per poterli aprire e fare un video per voi. Io aspettavo un pacco per una collaborazione, non sapevo quando sarebbe arrivato. Ora sono arrivati tre pacchi, quindi suppongo che almeno due siano della wishlist. Iniziamo da questo più grande. So già che qualcuno tra voi mi aveva mandato qualcosa. Dopo vi rivelo chi è. Andiamo ad aprire. La busta, vediamo qui. Adesso andremo a leggere chi ce l'ha inviato. Ciao Mary, un piccolo pensiero per ringraziarti tutto quello che fai. Un abbraccio da Federica Sabatini. Federica, tesoro mio, grazie. Grazie Federica mia, grazie. Eccolo qui ragazzi. Forse lo squisci. Federica, grazie di cuore. La andiamo a provare subito. Andiamola a provare proprio direttamente sul microfono. Non ci credo. Io l'adoro questa. Vabbè, andiamo ad aprire il secondo pacco. No ragazzi, questo non ve lo posso far vedere. È per una collaborazione. Il secondo pacco che a questo punto ed ultimo credo sia della wish list e di... Nessun regalo, basterebbe a dirti grazie per tutto quello che hai fatto e stai continuando a fare per me. Da Veronica. Veronica Smirilli. Grazie tesoro mio. Sapevo che era il tuo. Sapevo che era il tuo. Grazie piccola mia. Andiamo a vedere. Cosa ha pescato Veronica dalla wish list. So che questa è una parte del regalo che mi ha fatto. Oddio le pacchette raga. Le pacchette che si illuminano. Le pacchette. Dovrò suppongo togliere questa etichetta qui per farle funzionare. Le pacchette colorate. Andiamo ad aprirle. Allora. Uno. E due. Sono bellissime. Sono bellissime. Da qui si spengono. Ragazzi sono fantastiche. Grazie, grazie Veronica. Le useremo un po' in live ragazzi. Anche nei video. Grazie Veronica mia. Grazie alla mia dolce Federica e alla mia dolce Veronica per avermi pensata e ad avermi inviato un regalo dalla wish list. Grazie di cuore ragazze mie. Se anche voi volete farmi un regalo c'è la wish list Amazon in bio qui sopra su TikTok. Grazie cuore a tutti. Grazie bambine mie. Grazie, 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 grazie. Bimbe mie. Grazie. Grazie a tutti.